prima di cominciare con il video ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale e passare nella descrizione dove ci sono tanti link utili come ad esempio il contest road to 15k mi raccomando sostenetemi lasciate un bel like al video come ho già detto iscrivetevi attivate la campanellina andate nella descrizione per tutti i miei sponsor e per tutti i miei contatti detto questo ragazzi fai con l'intro ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un tutorial per fare i glitch su gta online in questo tutorial si parlerà di molte cose lo so è un po lunghetto il video però parleremo di tutte le auto che si possono duplicare come si possono duplicare e tutto il resto allora per iniziare ragazzi la prima cosa che ci serve in gta sono i soldi se avete appena aperto un account l'unica cosa che potete fare è il caso bogdan chiedete un amico che ha il caso bogdan gli dite di darvi tutti i soldi e di prendere una piccola parte lo fate due o tre volte e alla fine riuscirete a mettere qualcosa da parte vi lascerò il link di questo video in descrizione e nel commento in primo piano per chi non sa come si fa il caso bogdan andatelo a vedere è di any game e quindi passiamo al prossimo requisito ragazzi quando abbiamo qualche soldino da parte che abbiamo fatto questo famoso caso bogdan siamo pronti a fare il glitch ragazzi allora per fare il glitch o qualunque genere di glitch abbiamo bisogno di determinati requisiti come ad esempio le proprietà come ad esempio le auto come ad esempio tante cose ma andiamo per gradi e andiamo ad esaminare passo passo tutto quello che ci serve le proprietà ragazzi alcuni mi chiedono a quale proprietà devo comprare cosa devo comprare per fare il glitch allora ragazzi se non avete proprietà come ho già detto fate il caso bogdan comprate qualche proprietà e proprietà e in genere le proprietà più usate ragazzi che sono più in voga per fare questi glitch diciamo sono la base operativa il bunker il night club e il ceo queste sono le proprietà più usate ovviamente voi dovrete andare a comprare quella che si sta usando in questo momento ovviamente documentatevi su youtube vedete come si muovono i glitch in quel momento cioè se si fanno con la base operativa comprate la base operativa se si fanno con il bunker comprate il bunker allora queste sono tutte le proprietà io raccomando sempre ragazzi se avete appena cominciato comprate quelle più economiche per poter incominciare a fare i glitch ragazzi anche perché se non scusate ragazzi se non abbiamo le proprietà non potremmo fare i glitch quindi qui abbiamo i ceo lì abbiamo visto tutte quante le altre proprietà il motorcycle club io consiglio di non comprarlo perché comunque serve a ben poco cercate sempre di comprare tutti gli elementi aggiuntivi tipo l'officina o tipo il centro operativo mobile se comprate il bunker mi raccomando ragazzi nel terzo slot per fare i glitch dovete avere il deposito veicolo personale altrimenti non vi lascerà entrare se avete l'officina quindi non mi fate domande sempre ma io non riesco ad entrare nel mio com perché perché avete l'officina quindi passiamo al prossimo requisito ragazzi il prossimo requisito è molto fondamentale ragazzi perché ci aiuterà a capire tante cose all'interno del gioco e ci aiuterà a fare i glitch ragazzi quindi mi raccomando cosa duplicare ragazzi che cosa possiamo duplicare in gta si può duplicare praticamente tutto a eccesso per fanno eccezione qualche veicolo ad esempio i veicoli pegasus ma non tutti i veicoli pegasus quelli che si chiamano con il telefono ovviamente come vedete qui si può duplicare quasi tutto tranne le biciclette e le barche perché sennò possiamo duplicare tutti i tipi di auto e anche gli aerei ragazzi quindi a questa domanda cosa potete duplicare potete duplicare a patto ovviamente che il gioco ve lo lasci mettere in garage quanto pagano ragazzi allora quanto pagano le auto pagano a seconda del tipo di auto e adesso andremo a fare una scaletta diciamo e cercherò di spiegarvi sia il costo diciamo e sia tutto il resto allora in primis ragazzi andremo a sfatare una leggenda metropolitana che molti di voi sono convinti e stra convinti che quella cosa paghi ma non è assolutamente così quindi andiamo al al prossimo passaggio ragazzi quindi ora io vado in leggendari motorsport ragazzi e vado a comprare un adder perché vado a comprare un adder per spiegarvi più o meno il costo e e tutto il resto allora il gioco ragazzi vedete questa adder costa un milione il gioco ragazzi ci paga il 60 per cento del costo dell'auto più il 50 per cento delle cose del costo delle modifiche il 50 o il 60 per cento del costo delle modifiche come vedete quest'auto io l'ho appena comprata costava un milione e mi danno 600 mila io ho perso 400 mila siccome non ha modifiche non può essere venduta al prezzo di un milione il mito da sfatare ragazzi come avete visto vale 600 mila l'auto il mito da sfatare è questo le verniciature ragazzi non pagano quindi non spendete soldi in verniciature vedete io adesso la sto facendo dorata con le verniciature che pagano di più e come potremo andare a verificare quando andremo a venderla il prezzo sarà sempre questo quindi non date retta ai youtuber del cazzo non perché sono più grandi di me ma perché non sanno un cazzo alcune persone non sanno un cazzo non sanno che le verniciature non pagano quindi non mettete verniciature ragazzi è uno spreco di soldi soprattutto se mettete oro cromato o altre cose è uno spreco di soldi quindi mi raccomando nessuna verniciatura perché le verniciature non pagano ricordatevelo ragazzi questo è una cosa fondamentale perché comunque al momento di andare ad applicare la verniciatura andremo a spendere quei 40 50 60 mila dollari in più che magari non abbiamo e potremo spendere in quale in qualunque altro modo allora qui andiamo a vedere quale auto duplicare ragazzi allora per sacrificare le auto cioè per duplicare le auto scusatemi ragazzi dobbiamo sacrificare dei veicoli generalmente è meglio sacrificare la lg rh8 per quale motivo ragazzi perché è un'auto che proviene dalla categoria auto di lusso e sicuramente non ci darà problemi nella duplicazione invece alcune persone magari adoperano auto che non sono di lusso oppure cioè che non è la lg rh8 adoperano che cazzone so auto di strada adoperano faggio adoperano qualunque genere di di veicolo che si trovino si va bene per duplicare però potrete incorrere in alcune in alcuni problemi del tipo il blocco dei 50 mila oppure non vi paga l'auto il prezzo che dovrebbe pagarla e tutto il resto quindi ragazzi io consiglio sempre di duplicare le auto sì ma con il cervello quindi non usate faggio non usate sanchez non usate cari rebel perché fanno parte della categoria economica e potrebbero darvi problemi nelle duplicazioni ragazzi quindi fate molta attenzione usate sempre una lg rh8 per fare le vostre duplicazioni ragazzi perché è l'auto più indicata a meno che non stiamo duplicando nel motorcycle club e a quel punto allora andremo ad usare per forza di cose o un faggio oppure una moto ragazzi questo è quanto il prossimo passaggio da andare a vedere quale ragazzi ora andiamo per gradi come ho già detto il video un po lunghetto però io vi consiglio di guardarlo tutto e cercare di capire bene tutto quello che vi sto dicendo allora le vendite e i blocchi allora ci sono svariati tipi di blocco io adesso ve ne vado a far vedere uno allora se noi duplichiamo le auto di leggendari motorsport ragazzi potremmo incorrere nel blocco dei 50.000 cosa significa che quando andremo a vendere il clone di un'auto di lusso non potremo venderla ora andremo a vedere più nel dettaglio cosa succede non potremmo vendere il clone ragazzi ma potremmo vendere molto tranquillamente l'originale e tenere il clone quindi fate bene attenzione anche queste auto sono duplicabili ok però come ho già detto potremmo vendere solo una volta l'originale e tenere il clone adesso andremo a vedere per quale motivo allora ragazzi io qui ho una t20 mi sembra e andiamo a vedere questa t20 ragazzi è duplicata ok questo è un duplicato quindi io adesso vado per vendere questa t20 e come andremo a vedere automaticamente mi dirà che non posso vendere veicoli a questo prezzo ragazzi quindi questo è il primo tipo di blocco che noi avremo e si chiama il blocco dei 50.000 ragazzi quindi mi raccomando se duplicate un'auto di lusso vi raccomando di tenere il clone e vendere l'originale per rientrare dei soldi che avete speso nella nell'acquisto dell'auto ragazzi solitamente molte persone fanno così tengono l'originale cioè tengono il clone e vendono le originali di qualunque auto abbiano e così rientrano di molti soldi ragazzi questo è un metodo per poter rientrare di molti soldi quindi questo è un altro consiglio che io vi do passiamo al prossimo consiglio ragazzi non non pensate che io sono il guru del dei glitch però questi sono consigli molto utili le auto che pagano di più ragazzi le auto che pagano di più sono le auto dell'arena war e di bennis motor allora queste auto pagano abbastanza ragazzi perché perché comunque andranno a pagare il costo delle modifiche e le modifiche di queste auto sono veramente tante ragazzi quindi possiamo sbizzarrirci come vogliamo per modificare le auto come state vedendo le auto sono quelle che vedete nei due riquadri e possiamo modificare le auto vi lascerò sempre nella scheda in alto a destra come modificare un auto queste ragazzi sono le auto dell'arena war e pagano parecchi soldini e abbiamo anche le auto di di bennis che pagano altrettanti soldini quindi se non avete la possibilità di modificare auto di arena war modificate auto di bennis anche che magari costano poco però salite piano piano di soldi e mano mano che salite di soldi potrete comprare altre cose per poter magari gliccia glicciare meglio scusatemi ragazzi allora passiamo al prossimo ragazzi al prossimo mi raccomando io spero che farete tesoro di questo video i veicoli pegasus ragazzi i veicoli pegasus sono quasi tutti duplicabili come ho già detto prima quasi perché quasi perché quelli che si chiamano con il telefono di pegasus tipo il bus tipo l'autobus tipo ci sono miliardi di veicoli che non si possono duplicare la maggior parte si possono duplicare quasi tutti allora cosa succede se duplichiamo una deluxe o un mk2 o un qualunque altro veicolo pegasus ritorno a dirvi ragazzi che il gioco vi paga solamente le modifiche quindi che cosa andrà a pagare questo veicolo il veicolo che noi staremo duplicando che sia una mk2 che sia un oppressor che sia una deluxe cosa andrà a pagare ragazzi andrà a pagare solamente le modifiche questa che vedete qui ragazzi è il clone e quindi andremo a vedere adesso quanto ci paga il clone come vedete ci da 320 mila erotti mentre l'originale ci darà i suoi 3 milioni di valore allora cosa succede ragazzi se noi vendiamo l'originale e continuiamo a duplicare il clone il valore dei dei cloni sarà sempre quello però in compenso saremo rientrati di 3 milioni e rotti della vendita dell'originale e anche qui avremo guadagnato qualche soldino e potremo continuare a duplicare la nostra deluxe in maniera tranquilla ricevendo sempre quei 300 mila questi ragazzi sono i valori delle auto l'ultima cosa che vi voglio far vedere sono le auto di san andreas super autos ragazzi allora tutte queste auto qui ragazzi per il gioco sono auto non di lusso quindi come ho già detto prima se voi andrete a duplicare un'auto di queste non avrete il prezzo pieno non avrete la vendita continua ragazzi che cosa significa adesso andiamo a vedere più nel dettaglio quindi io adesso qui ho un'auto diciamo di strada diciamo san andreas super auto che è la fusillade che è modificata al massimo ragazzi quindi andiamo per vendere questa auto e ce la fa vendere tranquillamente ma a questo punto che cosa succede io adesso vado a vendere questa auto e questo tipo di auto ragazzi ci da un blocco di 48 minuti mi sembra 45 o 48 minuti cioè una volta che abbiamo venduto un'auto di strada ok ragazzi non possiamo più vendere a meno che le auto che noi stiamo vendendo non le abbiamo comprate da san andreas super auto allora come vedete io questa qui l'ho comprata intendevo a modificarla e me la lascia vendere perché è di mia proprietà e l'ho comprata da san andreas super auto se io andassi per strada a prendere un altro veicolo e tenterei di venderlo uscirebbe l'altro blocco ora andremo a vedere questo questo blocco ragazzi quindi un attimino che esco fuori io spero che questo video ragazzi lo guardiate lo guardiate veramente fino alla fine lo condividiate perché questo video è molto utile per chi sta incominciando ora a giocare a dta per chi già è veterano di dta ma magari non conosce alcune cosine e quindi io ritengo che questo video sia abbastanza utile ci ho messo un pochino per farlo questo video per cercare di raccogliere non raccogliere ma diciamo a raggruppare tutte quante le informazioni che vi potevano essere utili questa qui ragazzi è un'auto che io ho appena rubato per strada adesso proviamo a venderla e vediamo che cosa succede ci dice che in questo momento non servono auto perché perché abbiamo i 45 minuti di blocco ragazzi per saperne di più sul blocco sempre nella scheda in alto a destra vi lascerò la guida al blocco giornaliero che spero andiate a vedere come spero che vediate tutto questo video detto questo ragazzi non ho nient'altro da aggiungere spero che il video vi sia stato utile un saluto a tutti e al prossimo video ciao belli